buongiorno a tutti oggi splendida giornata qui sul lago 9 marzo comincia già la temperatura essere abbondantemente primaverile si comincia a sentire che meraviglia stamattina i colori sono proprio bellissimi molto vivi veniamo da un periodo di piogge molto intenso speriamo che duri perché come vedete con l'avanzare della stagione vedete sullo sfondo un po di nebbiolina ecco il sole se lo vedete ciò in fondo proprio quella nebbiolina con la foschia e l'evaporazione del lago ecco quindi diciamo questo potente motore che consume in qualche modo la risorsa idrica in una maniera abbastanza consistente su cui bisogna fare delle valutazioni accurate siamo qui vi regaliamo queste immagini molto molto bella se volete significative perché come dire vedete raccontano ancora degli aspetti questa che vedete qui sarebbe la vera spiaggia la nuova spiaggia che si è creata e che è molto lontana dalla spiaggia originaria c'è in mezzo questo spazio in cui affiorano le falde dove portano l'acqua che esce poi va nel lago ci sono dei cigni che si stanno stanno come dire pascolando buongiorno a tutti